Ciao, sono Alessandra Leone e oggi vi spiego due delle novità della linea Sense targate ovviamente Crystal Nails. Parliamo di due basi, base Milky Rose e base Milky White. Come si evince dal nome le basi sono di colore rosa lattiginoso e bianco lattiginoso. Sono delle basi solubili con strato di inibizione dalla polimerizzazione in UV di due minuti e la polimerizzazione in LED di un minuto. Sono delle basi che possono essere utilizzate come base per il semi permanente in quanto solubili oppure come base sotto l'acrigel oppure sotto il gel. Possono essere coperte da qualsiasi colore Sense o in alternativa da qualsiasi colore della linea Crystal Nails per quanto riguarda il reparto semi permanente. Per quanto riguarda questa base oltre a fungere da base può anche essere utilizzata come vero e proprio semi permanente perché al suo interno ovviamente avendo già un pigmento abbastanza elevato possiamo tranquillamente lasciarlo così e ricoprirlo solo ed esclusivamente con uno dei top a disposizione della linea Sense oppure della linea Crystal Nails. Per quanto riguarda la densità abbiamo una densità maggiore e il prodotto non è assolutamente fluido. Questo ci consente oltre ad effettuare la classica stesura a smalto anche di poter realizzare per quanto riguarda il semi permanente un rinforzo maggiore e quindi a poter essere utilizzata anche sulle unghie maggiormente sensibili e ovviamente maggiormente sottili. Queste e tutte le altre novità le trovate sul sito www.crystallnails.it e ovviamente all'interno di tutti i rivenditori d'Italia. Vi abbraccio e buone novità a tutti!